Dopo l'incontro tra i vertici regionali e provinciali della Lega, anche il partito di Matteo Salvini ha deciso di appoggiare il candidato sindaco Carlo Antonetti alle prossime elezioni amministrative di Teramo. L'avvocato ed ex presidente del Teramo Basket, ricordiamo, è sostenuto anche dai gruppi civici e d'azione. Quindi ora è ufficiale l'appoggio di tutto il centrodestra, come testimoniato anche dal comunicato congiunto inviato questa mattina. Abbiamo incontrato l'avvocato Antonetti, con il quale ci siamo confrontati. È evidente che la coalizione centrodestra andrà unita a Teramo e in tutti i comuni che tornano al voto, preparandosi per le elezioni regionali che ci saranno nei primi mesi del 2024. Siamo uniti, abbiamo naturalmente delle difficoltà legate alla tempistica, ma cercheremo di mettere su la più competitiva coalizione per il bene dei cittadini terramani che meritano di avere un'alternativa valida. Naturalmente ringraziando per la disponibilità, ripeto, Quaresimale, Tiberi e tutti gli altri competitor, andremo ad appoggiare le elezioni comunali di Teramo all'avvocato Antonetti. Quindi se non ci saranno stravolgimenti in vista delle presentazioni ufficiali delle liste, i cittadini terramani dovranno scegliere tra tre candidati alla carica di primo cittadino. E sono il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto, Maria Cristina Marroni e Carlo Antonetti. Secondo lei c'è la possibilità di avere il sindaco al primo turno? Io penso che in una competizione elettorale, soprattutto complessa e complicata come quella di Teramo, dove vanno al voto tanti cittadini, quindi c'è una massa grande di elettori, è complesso fare questi ragionamenti. Io quello che posso dire è che con un po' di esperienza che abbiamo in altre elezioni amministrative bisogna mettersi a lavorare, cercare di comunicare nel miglior modo possibile e ripeto, parlare al cuore dei cittadini terramani. Come tante volte hanno fatto candidati sindaci che sono partiti anche in ritardo e poi sono riusciti a ribaltare un risultato che sembrava scontato. Mi viene in mente Biondi che fu scelto come candidato sindaco la prima volta a dieci giorni nella chiusura delle liste e riuscì in quel miracolo di vincere le elezioni al ballottaggio. Quindi le competizioni elettorali sono tutte un libro aperto e siamo pronti a scriverlo insieme.